Due colpi di testa, il primo è andato un po' a segno, il secondo un miracolo di l'anni. Purtroppo sì, ci dispiace veramente tanto la squadra dispiaciuta, perché si vede che stiamo provando a lasciare tutto, ma purtroppo capitano questi episodi come il gol di loro. Però ti dico, la squadra è unita, abbiamo visto anche la tifosoria è unita a noi, quindi andiamo tutti nella stessa strada, nella stessa direzione. Cosa è mancato nel secondo tempo? Perché dopo che hai pareggiato, la sensazione, anche con l'uomo in più, era che il Pescara potesse andarla a vincere la partita. E ti dico, abbiamo provato, abbiamo un po' accusato queste due partite ravvicinatissime, però ti dico, ci basta un pochino, un pelino di fortuna, secondo me, che se quella palla entra, stiamo a parlare qua di un'altra cosa, comunque anche un'altra di Rizzo, anche di Cleme. Però ti dico, stiamo lavorando al massimo, la squadra si vede che vuole vincere, quindi speriamo che arrivi al prima possibile. L'anno scorso questo campionato l'hai vinto, se non ricordo male, con la maglia del Como, ma come si vince, stando così indietro come sta il Pescara? No, ti dico, noi pure abbiamo cominciato a vincere, poi abbiamo avuto una serie di partite che non vincevamo, pareggiavamo e giocavamo male, però come ti dico, se la squadra è unita, come la sto vedendo, prima o poi arriveranno i risultati. Sono cinque, se non erro in maglia bianca azzurra, non ti fermi più. Speriamo, speriamo, speriamo a fare il massimo possibile e fare un bel record. Una domanda una, la volo per Franco Ferrari, Massimo, metto il telefono in viva voce, quindi Ferrari vi ascolta. Fabio? No, ebbè, Ferrari secondo me sta facendo benissimo, sta tenendo il peso dell'attacco e ora ha trovato pure la via del gol. Come ho detto già altre volte, secondo me lui si sposerebbe benissimo con una seconda punta, con un uomo vicino che magari gli toglie un po' di peso, di responsabilità, però anche da solo sta reggendo alla grande il reparto offensivo e quindi gli faccio i miei complimenti, nessuna domanda. Grazie mille, grazie mille caro. Vorrei, posso dire, dedicare come sempre questo alla mia famiglia e alla mia amorosa che sono sempre, ai miei amici, un sostegno in più quando non facevo vol, che delle volte è brutto, come a dire quei tempi lì, però per fortuna sto segnando, quindi niente. Speriamo di rivederti spesso qui perché vuol dire che segni tanto. Speriamo. Grazie, grazie a Franco Ferrari.